Ah, un'altra chiamata intervista a cui abbiamo Osword, il rapper tipo Palazzo di Gia Palazzo. Osword. Ciao Osword. Eh, buongiorno. Eh, un'intervista, la famosa. Sì, prego. Oh, ma io sono il rapper tipo Palazzo. E' pratica... Ma nel campo di che cosa parati? Nel campo dell'Alleanza Latina. L'Alleanza Latina. L'Alleanza Latina si chiama, compagno. Alleanza. Eh, l'MC. Chi c'è? Bello. Siamo con il rapper tipo Palazzo di Gia Palazzo. Con un style medico. Un bebop mio figlio. Ah, ah. Senti qua. E io, è il mister gira di pelle, con statura di da ribelle, che fai di moda le modelle. Senti qua, ho qualcosa da dirti, che non ti vedo digerirsi, quando ti vedo nel quale è più. Gim. Oggi è che qualcuno ti spiega in Gim. 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 Gim.